Gianni Bugno, campione del mondo, sceglie Siga Mega Drive. Abilità, concentrazione, riflessi, ecco perché un campione del mondo sceglie Mega Drive. Mega Drive da Siga, come Game Gear, l'unico videogioco portatile che diventa un vero TV, a colui. Game Gear, campione del mondo con Gianni Bugno, vince. Ai giochi preziosi.